La preghiera di Don Torino Bello, ala di riserva, è anche un quadro fatto realizzare da un gruppo di giovani appassionati del Vescovo Venerabile. Il servizio. Attualmente sono 18 le copie dell'opera e una di queste è conservata anche da Papa Francesco, a cui è stata donata il 23 febbraio 2020, in occasione della visita a Bari per l'incontro mediterraneo Frontiera di Pace. Stiamo parlando dell'ala di riserva, la preghiera di Don Torino Bello, diventata un quadro grazie ai Testimoni del Bello, gruppo di giovani che si sono riuniti per ricordare e far conoscere il Vescovo Venerabile dalla profonda e autentica fede. Quest'opera nasce l'indomani di una serata che organizziamo insieme ai Frati Cappuccini di Bari, nominata ai Testimoni del Bello, al Circo L'Unione. L'indomani, mentre mi sto recando al lavoro all'ospedale San Paolo, dopo che avevo letto lo scritto di Don Tonino, inizio nel mio quadernetto a scarabocchiare quella che poteva essere l'ala di riserva e ne viene fuori un primo bozzetto. Poi di seguito l'ho rivisto, ci ho lavorato un po', ho partecipato con una mia amica, un'artista palermitana, Martina Busciglio, questo primo bozzetto che ne ha poi riprodotto l'opera che vediamo qui alle mie spalle, in un formato di 100 cm x 70. E' entusiasta, diciamo, lei colse questa proposta. Gli elementi del quadro sono disposti su tre livelli, sullo sfondo, il mare e il portale che si trova dove è sepolto Don Tonino, segni rispettivamente di Molfetta e Alessano, città a lui care e simboli anche di una finestra verso oriente. Al centro l'abbraccio tra Don Tonino e Gesù che indossa il grembiule del servizio. In primo piano una sedia, un paio di scarpe e un catino che richiamano la lavanda dei piedi. Ancora, appoggiato sulla sedia si vede un ramoscello di ulivo, simbolo di pace e accoglienza. Infine, sulla sinistra, l'ala di riserva, preparata come un regalo ricevuto dal padre e offerto agli ultimi. La scelta della luce, riferiscono gli autori, è volutamente in un arco temporale da mezzogiorno alle tre di pomeriggio, quando il sole è più alto nel cielo. Come dice Don Tonino, l'ora della passione di Cristo è quella in cui c'è più luce. Gesù ha le piaghe, aggiungono, ma indossa l'abito bianco della Pasqua. Il nostro auspicio è che il messaggio dell'ala di riserva di Don Tonino continui a essere propagata. Non possiamo non citare Felice Spaccavento che ne musicò il testo di Don Tonino. E, con nostra grande sorpresa, abbiamo poi visto a Sanremo Mr. Rain che l'ha riprodotta nel suo brano. All'inizio questo origina da uno scritto di Luciano De Crescenzo, l'ala di riserva, e si può volare solo rimanendo abbracciati. Quindi questo vuole essere solo ancora un tassello, ancora di più, che possa portare il messaggio di Don Tonino in tutte quelle periferie che stiamo vivendo esistenziali, purtroppo a causa di pandemie e guerre del nostro tempo. Grazie.